L'inchiesta che vede al centro il presidente della provincia Franco Alfieri tocca anche Battipaglia. Nella mattinata di ieri, infatti, i finanzieri del gruppo Dieboli sono stati a Palazzo di Città per delle perquisizioni a cui hanno fatto seguito acquisizioni di atti. Al centro c'è sempre la dervit relative a parti della pubblica illuminazione che la città aveva affidato proprio a tale realtà. Da Palazzo di Città, fonti vicine all'amministrazione comunale della sindaca Cecilia-Francese, dicono che l'ente non sia doccato da procedimenti giudiziari da parte delle fiamme gialle. Stando ai nomi degli indagati, il presidente della provincia e altri cinque, è proprio così, tant'è che essi non risultano esponenti politici o tecnici battipagliesi. Che se ne dica rimane però il fatto che la guardia di finanza era in comune ieri mattina e che i documenti sono stati acquisiti. Se i finanzieri fossero alla ricerca di prove o altro, non è dato sapere e non sta di certo a noi fare indagini o supposizioni nel merito. Anche qui il problema è il subappalto che la dervit ha dato all'alfieri impianti, elemento sul quale gli uomini della finanza stanno indagando. Altro potrebbe emergere in particolare riguardante il comune battipagliese? Impossibile da dirsi, dato che c'è il più stretto riservo sull'intera vicenda, seppur qualcosa stia trapelando. Infine, menzione doverosa per l'amministrazione battipagliese, da parte della quale c'è totale serenità su ogni fronte. Da noi sono venuti in maniera serena, erano tre finanzieri del comune di Eboli a prendere delle carte, perché la ditta in questione è la ditta che ormai gestisce l'illuminazione pubblica in molti comuni della Piana e non solo, perché ha anche una valenza a livello nazionale. E quindi sono venuti a prendere questi documenti in maniera molto serena. Poi stamattina i giornali di testata più rilevanti hanno chiarito di cosa si tratta e quindi il comune di battipaglia. In tutto ciò non c'è andrà niente. Abbiamo fatto una gara aperta, evidenzia pubblica, se l'è giudicata questa società, che è una società che gestisce l'illuminazione di gran parte dei comuni, non solo limitrofi, ma anche a livello nazionale. E leggevo che c'è una questione di subappalti, ma questo riguarda poi la magistratura. Noi siamo, come ha detto anche Fieri, fiduciosi in quello o nell'operato della magistratura. E noi continuiamo per la nostra strada. Abbiamo fatto un buon lavoro, soprattutto abbiamo ridato la luce e sicurezza sulla fascia costera, che aspettava da 15 anni l'illuminazione. Ancora non abbiamo finito, perché l'illuminazione prosegue sulla via della Spineta, soprattutto all'altezza di Rotopaco. Voi sapete che ci sono molti extracomunitari che non mettono spesso questi gibbini che si evidenziano con la luce e succedono incidenti sgradevoli. Quindi questo è quello che ci premeva, di portare l'illuminazione alla periferia, via Tempa delle Claste, via Tufariello, via Spineta, via Litorania. Bene, e voglio dire qualcuno che ringraziasse questa amministrazione. Grazie.